Dunque, oggi arriviamo in programma di continuare questo esercizio. La volta scorsa abbiamo realizzato un possibile modello di processo. Andiamo avanti sui vari punti e in particolare il punto successivo che viene richiesto è il modello concettuale relativo a questo scenario. In cui dobbiamo andare a elencare, essenzialmente, tutte le entità concettualmente significative, i loro attributi e le loro relazioni principali. E come sempre usiamo la formalismo del diagramma delle classi, quindi rappresentiamo come classe quello che è un'entità del progetto. Allora, per fare questo lavoro, ricordiamoci un po' ciò che facevamo nella prima settimana, facciamo un esercizio di andare a identificare quelli che sono i nomi sostantivi principali nella descrizione. In realtà un po' di analisi l'abbiamo già fatta nel costruire il diagramma di processo, l'activity diagram che rappresentava il processo. Quindi in realtà alcuni termini li abbiamo già messi in evidenza, tra cui se andiamo a leggere ciò che avevamo scritto, a parte i soggetti, perché i soggetti sono coloro che compiono le azioni e non necessariamente sono entità gestite dal sistema, ma spesso sono attori. Ma per il resto abbiamo qua un generico bisogno di acquisto, bisogna capire a che cosa corrisponde, qui si parla di fondi, qui si parla nuovamente di fondi o di disponibilità dei fondi, si parla di costo, il costo sarà legato al bisogno di acquisto in qualche modo, si parla di un preventivo, questa è un'approvazione, informazione, quindi di fatto non aggiunge informazione rispetto a quella che c'è, si parla di offerte, offerte o preventivo in un certo senso sono equivalenti, anche se non totalmente sinonimi, ma dal punto di vista delle informazioni che contengono lo sono, o in qualche modo correlate, ci ragioniamo, ci parla di fornitore, quindi a qualche parte dobbiamo avere informazioni sui fornitori e poi in particolare sull'acquisto tramite gara si parla di una descrizione, si parla di un bando, c'è una risposta sempre tutto legato, informazioni legate al bando, inviato o non inviato, non so quando, pubblica il bando, però sempre del bando stiamo parlando e poi infine parliamo di offerte, quindi questi in grosso modo sono i termini che abbiamo usato nella descrizione di processo, se andiamo a rileggere il testo, si parla di un acquisto che ha un valore, si parla di un preventivo, si parla di fondi, nuovamente la spesa, fondi, spesa, preventivo, fondi, ordine, sono questi termini, proviamo a metterli nel modello, chiamiamolo concettuale, proviamo a cominciare a indicarli, poi studiamo un po' le loro relazioni, i loro attributi, se in qualche modo sono collegati, quindi io andrei magari per ordine, inizialmente parlavamo di un bisogno di acquisto, un oggetto da acquistare, il proponente identifica un bisogno di acquisto, adesso bisogno è una parola un po' brutta, la chiamerei una richiesta di acquisto, qualcuno dice ho bisogno di acquistare questo, e me la visualizzo, quando faccio queste cose cerco sempre di visualizzarmi dei pezzi di carta che corrispondono a quei concetti di qualità, quindi la richiesta di acquisto può essere un foglio che contiene delle informazioni sopra, magari alcune di quelle informazioni possono vivere di vita propria e quindi essere rappresentate come entità propria, però è un oggetto che ha senso gestire, siete presenti che a livello di processo e a livello di modello concettuale non siamo ancora vincolati a dire rappresentiamo questo in una base di dati, quindi anche se stessimo descrivendo un processo e dei concetti che sono gestiti in modo manuale cartaceo vale lo stesso, quindi il fatto di immaginarsi di fogli di carta non ci porta troppo lontano, se non il fatto che fermiamoci con l'analogia perché il foglio di carta ha dei limiti di gestione, nel senso che è uno solo, non lo posso strappare, non lo posso pubblicare, mentre invece le informazioni sono più flessibili per fortuna. Paragoni preventivi, perché il preventivo è probabilmente un altro concetto che ci interessa, però li butto lì in ordine spasso e poi li leghiamo tra di loro, poi vediamo, parliamo di fondi, abbiamo citato più volte la parola fondi, lo spasso dei fondi deve autorizzare la spesa, quindi qui si seleziona il preventivo più basso, la spesa, tutta questa spesa di cui si parla che cos'è? La spesa è presumibilmente un attributo della richiesta d'acquisto. Per essere approvata, qui dice che la richiesta deve essere approvata, il Consiglio dei fondi deve autorizzare la spesa, adesso in questo caso si conoscono già i preventivi, ma nel secondo caso, al momento della richiesta non si conosce ancora il valore, ma si conosce solamente un valore indicativo e quindi fa parte di questa richiesta d'acquisto. Verifica di struttura dei fondi, procede a definire l'ordine, ordine, ordine fornitore, sono gli altri due termini che compaiono. Poi abbiamo, e qui abbiamo raccontato la prima metà del processo, nella prima metà del processo vediamo se si aggiunge qualche cosa, il valore l'acquisto è superiore, il valore ce l'abbiamo, questo valore dell'acquisto è equivalente a questa spesa, è un modo diverso di dirlo, l'acquisto deve essere fatto tramite un bando di gara, quindi il bando è un'entità a parte, bando di gara, indicando anche il tempo di apertura del bando, questo è facile, ce l'hanno già detto, tempo di apertura, del bando, qua un attributo, il bando viene poi verificato dal proponente che può richiedere delle modifiche, questo è puramente l'aspetto di processo, dal punto di vista dei contenuti non implica nulla, quindi il direttore del Dipartimento deve approvare il bando, il bando viene quindi inviato alla Corte dei Conti per l'approvazione, quindi di nuovo è sempre questo bando di cui stiamo parlando, che fa diversi passaggi, ma è come se fosse lo stesso foglio di carta che andando avanti e indietro viene visto da uno, firmato dall'altro, siglato dall'altro. Il tener traccia di queste variazioni non cambia ciò che c'è scritto sul bando, cambia eventualmente ciò che c'è scritto sulla busta, cioè sul processo che lo gestisce, però non fa parte del modello di informazioni. Il bando viene inviato alla Corte dei Conti, la Corte dei Conti può provare a rifiutare oppure richiedere delle modifiche, una volta assoluta l'approvazione della Corte dei Conti il bando viene pubblicato sul portale MEPA, però di nuovo il soggetto e l'oggetto di cui stiamo parlando continua a essere il bando, che dopo aver fatto tanti giri, tra tanti uffici va finire su un portale. Durante il tempo di apertura i fornitori possono inserire un'offerta per il bando, questo invece mi aggiunge due cose nuove, fornitore e offerta. Posso inserire un'offerta per il bando? Allo scadere del tempo di apertura, di nuovo un aspetto di processo, non di concetti, l'ufficio acquisti visione le offerte, l'offerta ce l'abbiamo già, e sceglie quella più bassa e procede a definire e poi inviare l'ordine, e l'ordine è una cosa che abbiamo già. Quindi direi che i concetti direttamente estraibili dal testo della proposta e anche dal processo che abbiamo fatto la settimana scorsa sono questi. Adesso bisogna andare un po' a raffinarli, soprattutto a legarli tra di loro, capire se sono giusti, se si possono semplificare, unificare o è necessario viceversa dettagliarli di più. Allora noi abbiamo, se vogliamo, una piccola complicazione del fatto che con lo stesso modello concettuale in qualche modo vogliamo gestire due processi diversi. Per cui che relazione c'è, ad esempio, tra preventivo è l'offerta. E concettualmente sono la stessa cosa, formalmente sono due cose distinte, le informazioni che ci sono sopra sono anche diverse, il momento e il luogo in cui vengono generati sono diverse, nel senso che il preventivo di fatto è un input al nostro sistema che viene in mezzo direttamente alla richiesta d'acquisto. Un'offerta invece è inserita nel portale della pubblica amministrazione e poi in qualche modo viene trasmesso al sito quando è già completa, ma dopo che ci sono state una serie di passi di approvazione, quindi conterrà informazioni diverse. Quindi entrambe in qualche modo sono legate alla nostra richiesta d'acquisto, cioè voglio comprare una bottiglia d'acqua e allora nel primo caso avrò i 3 preventivi per la bottiglia d'acqua, voglio comprare 10.000 bottiglie d'acqua e allora dovrò fare il bando di gara e avrò n offerte che mi rappresentano questo. O l'una o l'altra. In realtà entrambe potrebbero far parte dal punto di vista concettuale di un'unica classe superiore che le comprende entrambe, perché poi gli attributi dell'una e dell'altra sicuramente sono diversi, però avranno sicuramente alcuni attributi comuni e in alcuni momenti verranno gestiti in modo comune. Allora il modo più semplice per gestire una cosa di questo genere è fare una superclasse, che non so come chiamare, se non preventivo, offerta, barra offerta. Se trovate, voi che siete più bravi di me in questioni gestionali, se trovate un nome più adatto, sarebbe l'offerta. Guarda, facciamo una cosa, facciamo di offerta, offerta commerciale e qui, sì lo so che deve essere unico, perché voglio cambiare questo. Chiamiamo questa offerta MEPA. Cioè il tipo di offerta che arriva dal portale, che è una tipologia di offerta. Mi piace di più rinominarle così. E questa la possiamo chiamare offerta preventivo. Cioè un'offerta che arriva tramite un preventivo di spesa. Sono entrambe tipologie di offerte. La prima è un preventivo acquisito così fuori dal processo, la seconda invece è un'offerta più formalizzata acquisita attraverso il portale. In entrambi di questi casi stiamo parlando, di una relazione normale, ma di una relazione di ereditarietà. Entrambe queste sono tipologie di offerte. E quindi a livello di attributi, proviamo a immaginare quali possono essere gli attributi e le informazioni associate e poi ci chiediamo, questi attributi sono specifici dell'uno o dell'altro oppure sono comuni, perché se sono comuni li andiamo a mettere direttamente nella superclasse di riferimento. E la stessa cosa sulle relazioni. C'è una relazione che vale solo per questo oppure una relazione che vale solo per quell'altro, oppure se c'è una relazione che vale per entrambi in realtà la relazione la faccio arrivare direttamente alla superclasse. Faccio un esempio molto semplice. tra richiesta di acquisto e offerta c'è sicuramente una relazione che vale in entrambi i casi, perché quando io ho un preventivo devo sapere qual è la richiesta di acquisto corrispondente, ma anche quando avessi tutto il bando di gara, questo bando di gara alla fine porta delle offerte le quali sono legate, saranno offerte relative alla richiesta di acquisto iniziale, ovviamente. E quindi questa relazione c'è direttamente sulle superclasse. Viceversa, ad esempio, una relazione tra l'offerta e il bando di gara, il bando di gara c'è solamente per questa tipologia qua di offerte. Quindi sarebbe errato dire che c'è una relazione tra il bando di gara e l'offerta in senso alto, in senso generale, perché per le offerte di 5.000 euro, quelle per cui basta un preventivo o bastano i tre preventivi, non esiste nessun bando. Quindi in questo caso abbiamo una relazione che va ad associarsi alla sottoclasse specifica e non alla superclasse generica. Quindi ogni volta che cerchiamo di disegnare, per dire, due relazioni o due attributi che vanno su tutti i figli della relazione di ereditarietà, allora questo in realtà sta significando che la relazione è di appartenenza del concetto più generale e non dei singoli concetti più specifici. è la stessa cosa con gli attributi. Ad esempio l'importo. L'importo è sicuramente comune sia a un preventivo che all'offerta MEPA. Quindi l'importo lo metto qua. Metterlo qua significa metterlo sia qua che qua contemporaneamente, ovviamente. Tutto ciò che metto nella superclasse viene ereditato e quindi importato, ricopiato dalle due sottoclasse. La data sicuramente c'è. Sicuramente un'informazione di entrambi. il fornitore che ha fatto questa offerta. Attenzione che il fornitore che ha fatto questa offerta non è un attributo, non è una relazione con la classe dei fornitori. Però di nuovo è comune a entrambi. E quindi lo indichiamo con una relazione tra fornitore e offerta. dobbiamo mettere il fornitore. Vediamo magari qua. I fondi sono legati a cosa? Sono legati alle richieste d'acquisto, invece. Non tanto alle offerte nei fornitori, ai quali non interessano minimamente di qual è il capitolo di spesa interno mio su cui pago la spesa, ma fanno parte del mio processo interno di approvazione e poi di gestione economica e quindi è legato alla richiesta di acquisto. E invece un ordine... Ah, il bando di gara a sua volta è legato la richiesta di acquisto, perché io emetto un bando sulla base di una necessità di acquisto. Perché ricordiamo il processo, in alcuni casi la richiesta di acquisto è già accompagnata dal preventivo e finisce lì e quel preventivo è dato da un fornitore. In altri casi la richiesta di acquisto specifica dei fondi, sulla base dei quali poi si apre un bando di gara che genera delle offerte, alle quali poi verrà fatto l'ordine, le offerte che ovviamente sono indicate da qualche fornitore. In questo secondo caso la relazione tra richiesta di acquisto e offerta non esiste, o meglio arriva dopo se vogliamo, perché quando viene creata la richiesta di acquisto l'offerta non esiste ancora. Quindi adesso poi andremo a giocarsi le cardinalità per essere sicuri di specificare quali sono le relazioni obbligatorie, quali facoltative, quali molteplici. L'ordine, immaginiamoci un pezzo di carta su cui ci sia un ordine, cosa c'è scritto su quell'ordine? Vabbè, ci sarà una data, ci saranno i miei dati dell'ordinante, ma quelli li so. Ci sarà il fornitore e il bene richiesto. Quindi su quell'ordine per poter compilare quel foglio di carta devo andare ad agganciarmi, a pescare sicuramente i dati del fornitore, le informazioni sul fornitore. L'offerta che il fornitore ha fatto, perché io sto rispondendo a un'offerta specifica di quel fornitore, perché magari quello fornitore mi ha fatto 27 offerte diverse, per beni magari diversi. Poi al fornitore non arriva, ma internamente sicuramente quell'ordine è legato dai fondi, perché nel momento in cui la merce arriverà dovrò andare, nel momento in cui l'ordine parte i fondi vengono impegnati. Quindi un'informazione che non è interessante del fornitore, ma è sicuramente interessante per la validità di quell'ordine. Quel punto è slegato dalla richiesta di acquisto, che era un documento interno in cui io specificavo che cosa volevo, ma poi quello che acquisto non vado a metterlo a specifico che volevo, ma vado a mettere esattamente il codice, la descrizione dell'oggetto che mi ha fornito un'offerta del fornitore. Quindi qualche conto è ciò che c'è sull'offerta, ovviamente il processo di aggiudicazione mi dirà quali offerte rispondono correttamente alla richiesta oppure no, quindi avrò selezionato quella giusta. Quindi l'ordine so quali sono i fondi, so quali sono il fornitore a cui inviarlo, so qual è l'offerta e quindi l'unica cosa che mi manca qua, se vogliamo, è una data. Poi ci possono essere le note, il tempo di consegna, altre informazioni che se vogliamo possiamo aggiungere. Così com'è che il fornitore ovviamente avrà tutte le sue informazioni anagrafiche. Se questo sistema informativo si dovesse integrare con l'ufficio acquisti, sezione dei fornitori, sicuramente su questa tabella, su questo concetto si espanderebbe un mondo. Tutta la parte di sezione dei fornitori, qualificazione, eccetera, ci sono tutti altri processi che andranno a insistere su questa tabella. Noi qui diciamo abbiamo bisogno di quell'informazione lì, che poi sarà gestita da un'altra parte del sistema informativo. Io qui indico che c'è la classe, ma in questo momento non mi interessa espandere dei dettagli. La richiesta d'acquisto, da qualche parte ci sarà una descrizione del bene che intendo acquistare e anche l'offerta presumibilmente avrà una descrizione. sulla base della quale posso capire che cosa mi sta offrendo e se l'importo l'ho già messo. Troviamo qualche differenza tra l'offerta sotto forma di preventivo o l'offerta sotto forma di risposta al portale MEPA in termini di attributi? C'è qualche attributo che immaginiamo se ci fosse solo sull'una e non sull'altra e viceversa? Uno c'è di sicuro che è questo, no? Che di fatto, questa relazione, che di fatto dal punto di vista pratico significa che sull'offerta ci sarà un riferimento al bando, al codice del bando a cui sto rispondendo. Quindi in realtà un'informazione che c'è lì dentro non la modelliamo come attributo a quell'informazione, non la modelliamo come relazione. Così come l'offerta ovviamente contiene il nome del fornitore, ma è rappresentato non attraverso un attributo, ma attraverso una relazione. Quindi immaginiamoci questi fogli di carta, ipoteticamente ciò che si è scritto su questi fogli di carta è l'elenco degli attributi e l'elenco di tutte le relazioni che sono collegate a quel concetto, ovviamente, che sono informazioni correlate. Poi il fatto che queste informazioni, anziché essere dei valori, diciamo così semplici, siano a loro volta dei concetti strutturati, lo rappresentiamo con il concetto separato e la relazione tra i due. al momento il fondo, vabbè, avrà un codice di fondo, avrà una disponibilità. No, ecco, quello che possiamo aggiungere sicuramente è la disponibilità. Mi pare fosse anche citato nel testo, cioè uno va a vedere se il fondo ha la disponibilità per poter procedere all'acquisto, che è quello con cui si va a controllare la spesa, perdono, la spesa a questo punto non è un int, le altre cose le abbiamo chiamate mani. Scusa? Ah, anche, sì, sì. Mettiamo, sì, forse, era già definita, giusto. Così è visto definire classi in più. Ok. Dobbiamo mettere ancora a posto le cardinalità. Allora, per una determinata richiesta di acquisto quante offerte ci sono e per un'offerta quante richieste di acquisto ci sono. Allora, un'offerta è relativa a una sola richiesta di acquisto, deve essere la risposta a una richiesta, anche se fosse un preventivo, è relativo a quella richiesta di acquisto specifica, quindi una no, aspetta, dove è andata? Fermo lì. Mentre invece una richiesta di acquisto può essere relativa, cioè può essere associata da un numero variabile di offerte. Allora, nel caso dei preventivi c'è scritto che ce ne servono almeno tre. Nel caso dell'offerta MEPA nessuno ci garantisce che arrivino. Magari ne arrivano dodici, magari non ne arriva nessuno, magari ne arriva una. Quindi l'unica cosa che posso dire è che è un attributo molteplice, ma adesso mi devo mettere sopra se non si capisce, molteplice ma non obbligatorio. è obbligatorio nel caso specifico del preventivo. Ma non in generale. Tra offerta e fornitore, idem, se ho un'offerta, questa proviene da un solo fornitore, vai via, un fornitore può fare un numero arbitrario di offerte. La richiesta di acquisto e fondi, una richiesta di acquisto è relativa a un fondo specifico, un fondo invece può contenere molte richieste, può, sì, su quel fondo possono gravare anche molte richieste di acquisto. idem tra fondi e ordine, l'ordine è relativo a un solo fondo, un fondo può ovviamente essere usato per fare molti ordini. tra ordine e offerta, la relazione invece è diversa, nel senso che un ordine è relativo a un'offerta ben precisa, quindi qua c'è un 1, ma un'offerta non è detto che generi un ordine, anzi, di solito tra n offerte, n-1 non genera nessun ordine, e se va bene 1 genera un ordine, quindi tra offerta e ordine c'è una cardinalità di tipo 0-1. Ci sono offerte che sono associate a un ordine, ci sono offerte che invece non hanno generato nessun ordine. Poi ci rimane tra richieste di acquisto e bando di gara, allora il bando di gara è relativo a una richiesta di acquisto, la richiesta di acquisto può essere relativa o meno a un bando di gara, perché questo dipende dall'importo. Non solo dall'importo, dipende anche dal fatto che venga approvata, che c'è la possibilità dei fondi, eccetera, quindi possono essere delle richieste. Oh, ciao. Prego. Certo, venite. Buonasera. 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 Grazie. Ciao. Allora, dicevamo, richieste d'acquisto, bando di gara, può essere emesso oppure no, non zero infinito, scusate, zero uno, dai fai il bravo, ascoltami. Zero uno perché ci sono delle richieste che possono non generare un bando di gara, e sono due casi, o quando la richiesta è inferiore ai 5.000 euro e quindi non serve il bando di gara, o quando la richiesta è superiore ai 5.000 euro ma viene bloccata da uno dei tanti passaggi intermedi, ricordate che c'è la disponibilità dei fondi, il direttore del dipartimento, la corte dei conti. Se uno di questi tre dice no, non si arriva alla gara. E poi rimane tra bando e offerta MEPA e di nuovo una 1N, nel senso che è un'offerta ad essere relativa a un bando ben specifico e il bando si spera che possa avere un numero variabile di offerte, ma anche nessuna. Ordine fornitore, di nuovo l'ordine a un fornitore ben preciso, spero per lui che magari abbia vari ordini. Abbiamo secondo me raccolto praticamente tutte le informazioni tranne un dettaglio che mi viene in mente, tornando un attimo al processo, avevamo detto nel momento in cui devo acquistare tramite gara, beh avrò bisogno di dare una descrizione più formale e più dettagliata del bene da acquistare. Una volta scorsa parlando del processo, parlando di come, diciamo, voglio dire questo processo, venga gestito dalle persone, ci siamo detti, ma magari mi basta la descrizione di poche parole, se la spesa è piccola, tanto in realtà sto già legando dei preventivi, i quali descrivono bene qual è il bene, scrivono in dettaglio qual è il bene che sto acquistando. Se invece devo mettere una gara, la descrizione, il capitolato, un microcapitolato che stiamo parlando, quindi le specifiche di che cosa mi serve, saranno sicuramente più dettagliate. Abbiamo deciso la volta scorsa nel processo di tenere queste due descrizioni diverse, separate. Il motivo era di non obbligare chi deve fare una spesa piccola per cui ha già i preventivi in mano di dover necessariamente scrivere, sbrotolare dei requisiti troppo, diciamo così, formali e troppo impegnativi. Questo nel modello dati non ce l'abbiamo, non l'abbiamo ancora specificato e lo si potrebbe fare, ad esempio, specificando meglio le richieste d'acquisto. La richiesta d'acquisto ha quelle caratteristiche, ha quelle relazioni, dopodiché esiste un sotto insieme di richieste d'acquisto che deve essere meglio specificata. Allora, questa è la tipica, di nuovo, a relazioni di realitarietà. C'è una sottoclasse, un sotto insieme che ha qualcosa di più. Quindi io proverei a fare gli spazio per una classe che è una richiesta di acquisto per gara, che è in tutto e per tutto una richiesta d'acquisto e quindi ne eredita tutte le caratteristiche, ma ha in più una voce che possiamo chiamare il capitolato, no? Che è una stringona, una descrizione lunga. E a questo punto, avendo fatto questa sottoclasse, possiamo anche dire che il bando di gara non è più relativo alla richiesta d'acquisto in generale, ma solamente a queste richieste d'acquisto che richiedono una gara. E avendo associato questo, in realtà mi cambia anche questa cardinalità. Perché se è vero che… ah no, non è vero, me lo rimangio. Cambia il ragionamento che faccio su questa cardinalità però. Nel senso che prima avevo detto, a una richiesta d'acquisto il bando di gara magari non c'è perché è inferiore ai 5.000 e quindi non serve. In questo caso sottostante invece sono sicuro che è superiore ai 5.000. Quindi un bando di gara ci dovrebbe essere. Quindi mi è venuto per un attimo la tentazione di mettere qua un 1, per dire obbligatorio, deve esserci. In realtà no perché possiamo fermarla prima, per la mancata di fondi, per la seconda delle due condizioni che mi continua a specificare che il bando di gara potrebbe non essere emesso a fronte di una richiesta d'acquisto. Lo vediamo nel processo. Nel processo il bando di gara è qua. Il bando di gara viene emesso a un certo punto qua, pubblica il bando. Ma prima di arrivare qua devo passare da due verifiche del proponente e del direttore e a monte di tutto devo essere passato dalla verifica dei fondi, che era qua. Quindi non è detto che nel momento in cui creo un bisogno di acquisto, quello che abbiamo chiamato una richiesta di acquisto, superiore ai 5.000 Euro, non è affatto detto, e lo vedo nel processo perché ho delle strade per uscire prima, non è affatto che ho detto che arrivi a creare un bando di gara, un oggetto, un'entità, bando di gara, a dare un numero nuovo a un bando di gara. E quindi 0,1 posso farlo? Ok. Vabbè, gli altri sono aspetti estetici. Abbiamo dimenticato qualcosa? Ok. Allora possiamo salvare questo e dire che questo è il nostro modello concettuale. proponente potremmo andare anche a ripassare il nostro modello di processo e provare a immaginare su ogni frecciolina quali sono gli oggetti, non andiamo ad annotarlo se no ci perdiamo. Proviamo solo a chiederci su questa freccia che cosa viaggia? Viaggia alla richiesta di acquisto. Il proponente identifica i fondi. Dove sono questi fondi? Li ho in modo da concettuale. Sì, perché la richiesta di acquisto al suo interno contiene l'informazione sui fondi, può contenerla, anzi deve contenerla. Dopodiché parla del proponente che verifica... No, dove sono qua? L'ufficio acquisti verifica la disponibilità del fondo indicato. Verifica la disponibilità del fondo indicato significa che va a confrontare questa spesa con questa disponibilità. Quindi sull'informazione che abbiamo. Ma l'importante è che il processo ovviamente... Se fondi sufficienti, costo maggiore o minore di 5 mila... Cosa viaggia su queste freccioline? Continua a viaggiare sempre solo alle chieste di acquisto. Per ora non abbiamo altro. Nel caso in cui sia minore di 5 mila, il proponente ottiene almeno tre preventivi. E il responsabile dei fondi approva la spesa. Quindi i preventivi, la richiesta di acquisto li ha, perché ne ha collegati qua. Il responsabile dei fondi approva la spesa. Quindi se volessimo potremmo ancora aggiungere una relazione con un responsabile dei fondi. Quindi il personale dell'azienda c'è una persona tra il mio staff che è responsabile di quel capitolo di spesa. Se vogliamo indicarlo, potremmo aggiungerlo, un po' come abbiamo fatto con il fornitore, come una cosa abbastanza alla periferia. Un'entità che sia... Lo chiamo staff genericamente. È una persona indipendente o dirigente che è responsabile dei fondi. Adesso in questo caso, chi legge questo diagramma, forse fatica a capire una cosa c'entra con lo staff lì sotto. Per cui in questo caso è utile dare un nome. Alla relazione. Per far capire meglio il significato. Si può sempre indicare un nome su una relazione, ma ha senso farlo soprattutto quando non è ovvia. Parlavamo del processo, dicevamo questo è responsabile dei fondi. Quindi ogni fondo ha in qualche modo in sé l'informazione di chi è che approva le spese su quel fondo. Non siamo stati, non so se questa cosa qua è 1-1, 1-N, se siamo responsabili solo, se c'è un gruppo. Non lo sto specificando. È molto tangenziale rispetto al mio processo. Quindi mi aggancerò a ciò che c'è. Quindi dovrà essere poi, ovviamente, andrò a andare a parlare con chi gestisce quella parte di processo. Dopodiché qui si parla già di l'offerta più conveniente. Quindi su questa frecciolina qua sta viaggiando l'offerta. E su questa frecciolina qua, in uscita, sta viaggiando l'ordine. Quindi qui c'è un processo che prende l'offerta che è stata selezionata e questo processo qui prende l'offerta che è stata selezionata e genera un ordine. Mettiamoci sempre nei panni. Questi processi, immaginiamoci che sia la persona dietro che deve svolgere quell'azione. e chiediamoci sempre quali informazioni... Lui vive dentro questa scatola, non sa cosa succede nel resto del mondo. Allora, le informazioni che gli entrano qua dentro sono sufficienti perché possa compiere il suo lavoro? E quindi il modello dati è in grado di rappresentare tutte le informazioni? Sì, perché qua abbiamo un'offerta che qualcuno ha selezionato. Qua ne eravamo molte. Quindi qua entrano molte offerte e ne esce una. Qua entra un'offerta ed esce un ordine. Entrambe le cose, le offerte, l'insieme di offerte, gli ordini, le abbiamo nel modello concettuale, non ce li siamo dimenticati. E sono sufficienti per svolgere quel tasco, quella parte di processo, quell'activity. Questo è un po' il tipo di coerenza che stiamo cercando in questa fase qui di analisi. E al stesso ragionamento possiamo fare qua. Ovviamente qua è tutto... Questo processo, dal punto di vista del modello concettuale, è molto più semplice perché parla sempre del bando. È il bando che deve fare più in fondo, più in fondo, più in fondo. Quindi queste freccioline si palleggiano praticamente sempre a tutto il bando, tranne l'ultima che è recupera offerte. Quindi qua entra il bando ed escono le offerte. L'insieme di offerte qua sotto, in questa frecciolina che esce. Ma il resto di tutto questo processo parla solamente del bando. Quindi l'oggetto che si passa davanti e dietro è tutto lo stesso. Questo foglio che fa il giro del mondo è nevonte. Ok? Quindi ci piace e siamo convinti che sia coerente. A questo punto si passa, no? Passiamo alla parte un pochino più funzionale. Il modello dei casi d'uso, o meglio, il diagramma dei casi d'uso, supponendo che tutte le attività vengano svolte in forma elettronica. E fino ad ora non abbiamo detto il processo manuale, automatizzato o altro. A questo punto invece cominciamo a dire, va bene, immaginiamo che questo processo in tutto o in parte, e in questo caso in tutto, ce lo dice il testo, venga gestito da un sistema informativo. Allora, nel momento in cui dico gestito da un sistema informativo, nasce subito una divisione tra utente e sistema. Prima potrebbe essere tutto manuale, fatto da persone e fogli di carta, invece adesso no. Ci sono persone che vogliono il sistema, che gestiscono i processi attraverso il sistema. Quindi, le attività che abbiamo elencato nel processo corrispondono ad azioni che si compiono nell'azienda. Queste azioni in realtà possono essere distratibili. Torniamo al modello di processo per capire un po' come legare il modello di processo al modello dei casi d'uso. Qui abbiamo tante attività. Alcune di queste, che ne so dov'era, ottiene tre preventivi. È un'attività che viene svolta dal personale al di fuori del sistema informativo, per esempio. Quindi, alcuni processi, pur essendo imprendente di un sistema informativo, alcuni processi magari sono svolti manualmente, dalle persone, senza necessità del sistema informativo. Queste non si traducono in casi d'uso. Perché la persona lo fa, non interagisce col sistema, il sistema non lo sa, non ha modo di sapere che cosa ha fatto l'utente e non ha modo di aiutare l'utente nel fare quella cosa. Quindi non è un caso d'uso. Poi ci possono essere altre attività, lato opposto, che sono svolte in autonomia dal sistema informativo. Pensate a tutte queste parti qua, in cui il nostro sistema informativo interagisce con quello, invia il bando alla Corte dei Conti, riceve la risposta alla Corte dei Conti, eccetera. e qui dobbiamo decidere, lo potrebbe essere un passaggio informatizzato. Per cui nel momento stesso in cui io ho approvato il bando, l'azione di approvazione, quindi il processo di approvazione del bando, che sicuramente corrisponde a un caso d'uso, perché c'è una persona che è il direttore che deve fare un'azione, cioè approvare, il passaggio successivo può avvenire in automatico, cioè un processo che il sistema informativo può portare avanti autonomamente. Allora, quello non corrisponde a un caso d'uso, è una cosa che il sistema informativo fa da solo, non richiede interazione. Quindi tutte le parti di processo che sono svolte solo dalle persone o tra le persone non generano casi d'uso. Fanno parte del processo, ma non sono casi d'uso di interazione. Tutte le parti di attività invece che possono essere svolte dal sistema informativo in autonomia senza l'interazione con l'utente non generano casi d'uso, i casi d'uso invece sono i momenti in cui i due mondi, i viattori e il sistema interagiscono. Allora, per ciascuno di questi andiamo a dire quali sono gli attori e che cosa fanno. Lo andiamo a dire ovviamente facendo un diagramma di cari d'uso che è l'indice delle macro funzionalità del sistema come sono percepiti dagli utenti. Il diagramma di cari d'uso è l'indice delle funzionalità percepite dell'utente interattive con l'utente. Poi il sistema informativo avrà tutta una serie di altre funzionalità che appunto poiché il backup, la sincronizzazione, l'integrazione con altri siti, con altri servizi, con altre parti del sistema informativo che poiché si rivolgono dietro le quinte non sono rappresentati dal diagramma di cari d'uso ma dovremmo rappresentare diversamente. Allora, nel nostro caso quali attori abbiamo? Allora, dobbiamo andarsi a rileggere il test e andando a cercare di fatto le parole che finora abbiamo ignorato perché ci interessavano nel processo ma non nel modello concettuale. Quindi gli attori sono sicuramente qui dice che qualcuno il proponente ecco, il proponente qui dice e ci cita più volte questo proponente che è una persona che si sveglia il mattino e esplicita un bisogno. Chiamiamo proponente un attore? Mi sembra un po' brutto forse perché io non è che mi sveglio il mattino faccia login nel sistema come proponente. È il fatto che chi può avere accesso a quel sistema? È probabilmente un sotto insieme del personale che può avere il diritto di richieste di acquisto. Chiamiamo proponente. Non mi piace tanto il nome. E' proponente da che? se viene in mente un nome migliore lo scriviamo. Perché questo è proponente di andare in vacanza. poi abbiamo il responsabile dei fondi poi abbiamo l'ufficio acquisti di acquisti verifiche procede definire il valore dell'acquisto l'acquisto che si è fatto dal bando di gara proponente indica l'ufficio acquisti per il discorso del bando di gara indicando anche il tempo di apertura il bando è identificato proponente di nuovo il direttore del dipartimento deve approvare il bando. Mettiamolo vicino ai responsabili dei fondi perché hanno un ruolo simile. il bando mi ha quindi inviato la corte dei conti la corte dei conti può provare a rifiutare oppure a richiedere delle modifiche. Allora è un attore o non è un attore la corte dei conti? Intento lunghemente come ente astratto ma una persona che lavora lì ha le credenziali per poter allora sicuramente qualcuno della corte dei conti ha delle informazioni che deve passare a me però la persona fisica che lavora la corte dei conti si collega al mio sistema informativo per fornire informazioni? No la persona che lavora la corte dei conti si collegherà al proprio sistema informativo sul quale il sistema informativo ci sarà la mia richiesta di approvazione del bando perché il mio sistema informativo in automatico probabilmente l'avrà inviato e questo operazione di invio il mio sistema informativo parla con il suo sistema informativo poi là ci sarà una persona che si collega al suo sistema informativo e gli dice oh guarda è arrivato il suo bando avrei i suoi processi interni che ad un certo punto arrivano a dire approva e non approva come conseguenza di questo i due sistemi informativi si parlano e a me arriva l'esito di quella scelta però la persona che lavora la corte dei conti non si è mai collegata al mio sistema informativo quindi non è un attore del mio sistema informativo se volessimo ma non è corretto dirlo è il sistema informativo della corte dei conti che è in qualche modo un attore del mio perché due e due si parlano ma essendo un sistema non essendo una persona non lo rappresento ok quindi un attore è sempre una persona che svolge di un certo ruolo interagendo col sistema informativo possiamo avere degli attori interni della stessa azienda o attori anche esterni di aziende diverse in questo momento no al massimo sarà il contrario io non vedo una persona nella corte dei conti che si alza al mattino e si collega ai sistemi informativi di 200 aziende diverse per approvare i rispettivi bandi non ha senso al massimo potrebbe essere proprio il contrario se questa attività di integrazione è effettivamente automatica non c'è nulla da fare ma immaginiamo magari una piccola azienda che è un sistemino piccolo e non riesce a fare l'integrazione completamente automatica e informatizzata con la corte dei conti allora che cosa ci sarà ci sarà un nostro impiegato che avrà la password per andare a inserire delle cose nella corte dei conti nel sistema informativo della corte dei conti e poi vedere le relative risposte questo funziona al contrario nel sistema informativo della corte dei conti c'è un attore esterno che è l'impiegato di un'azienda che intende di una pubblica amministrazione che intende pubblicare i bandi quindi girato al contrario ovviamente quando due sistemi informativi diversi a livello interaziendale si devono parlare o la cosa viene in automatico oppure una persona da una parte di un'azienda deve collegarsi e quindi avere un ruolo su un sistema informativo di un'azienda diversa in questo caso è comunque in quel verso e non verso di noi quindi tutto questo per dire avevamo arrivati a leggere questo punto la corte dei conti può provare a rifiutare eccetera questa corte dei conti non si collega direttamente al mio sistema informativo ma al massimo lo fa attraverso il suo sistema informativo che è integrato col mio e quindi non interviene nelle attività dei casi duro interattivi una volta che è tutta l'approvazione il bando viene pubblicato durante il tempo i fornitori possono inserire un'offerta per il bando di nuovo è uno struttore del fornitore no perché questo fornitore lo mette sul portale del MEPA il bando non lo mette sul mio sito poi il portale del MEPA alla chiusura del periodo mi trasferirà le offerte ma il fornitore ha la password per entrare sul MEPA non ha la password per entrare sul mio sistema informativo l'ufficio acquisti bisogna le offerte sceglie quella più bassa e procede definire poi inviare loro quindi direi questi sono i 4 attori questi qui sono i 4 attori principali relativi a questa descrizione cosa fanno cosa possono fare quali sono le attività che ciascuno di questi deve poter fare e andiamo di nuovo a rileggere per l'ennesima volta la descrizione oppure se volete a questo punto dovremo avere già tutte le informazioni nel processo se non abbiamo dimenticato dei pezzi il proponente identifica un bisogno di acquisto e identifica i fondi quindi questo è un task è un'attività un'attività le avevamo separate possiamo pensare che siano due casi duri separati o un caso duro unico in cui mi dici cosa vuoi e su che fondi vuoi pagarlo oppure se vogliamo mantenere separate queste due cose avremo un caso duro in cui c'è un inserimento di bisogno di acquisto e un secondo in cui uno vado a richiamare un caso duro precedente e specificare i fondi ma eventualmente possiamo specificarlo in senso più astratto e poi volendo per composizione potremmo dire questo caso duro è composto da due altri sottocasi più specifici al momento cerchiamo di essere generali quindi inserimento inserimento richiesto di acquisto io man mano che va avanti nella progettazione cerco di essere sempre più preciso con la terminologia e quindi cerco in questo caso di usare i termini che ho indicato nel modello concettuale sempre meno ambiguità man mano che va avanti e questo è un caso duro del proponente poi il proponente deve fornire tre preventivi in un caso quindi deve avere la possibilità inserimento richiesto di acquisto vuol dire la spesa la descrizione e i fondi quando io inserisco un'entità sto inserendo tutti gli attributi di cui è composta per averla definita in modo completo quindi in questo caso sto spesa non so ripeterlo non devo ripeterlo è il modello concettuale che me lo dice se devo immaginare il modulo web su cui inserire i dati quali dati quali campi devo prevedere e li ho qua spesa descrizione e fondi i fondi avevano un codice una descrizione avevano qualche cosa va bene l'offerta non qui zero infinito quindi non è detto che debba inserirla quindi non lo metterei nel modulo di inserimento delle richieste d'acquisto ma a parte perché potrei inserirne anche di più quindi quando parliamo di richieste d'acquisto comprende le informazioni diciamo obbligatorie o caratterizzanti e quali sono queste informazioni caratterizzanti le andiamo a pescare dagli attributi e dalle relazioni in particolare le relazioni obbligatorie poi c'è a questo punto i preventivi nel caso in cui sia inferiore ai 5.000 euro è a carico del proponente stesso inserire tra preventivi quindi inserimento di un preventivo di una offerta preventiva l'avevamo chiamato per una richiesta di acquisto è stato un po' proisso quindi mi si ingrassa un po' lo vale ma c'è un carro d'uno in cui dico io ho già inserito le richieste d'acquisto dove ho messo la spera indicativa i fondi eccetera e a quella voglio caricare un preventivo 1 un preventivo 2 un preventivo 3 un preventivo di che tipo del tipo offerta preventivo cioè specificherò l'importo la data la descrizione e il fornitore se andiamo a vedere dentro offerta i campi obbligatori sono quelli l'ordine no arriva dopo il fornitore è obbligatorio per offerta la richiesta d'acquisto è anche obbligatoria ma in realtà è da lì che parto quindi ce l'ho già quindi questi sono i campi che dovrò fornire le informazioni che dovrò fornire poi magari carico anche il pdf per il pensionato dell'offerta stessa quindi questo signor proponente deve fare anche questa cosa qua poi andiamo avanti col processo oggi no ok andiamo avanti col processo l'ufficio acquisti verifica la disponibilità del fondo indicato allora a questo punto attiriamo in ballo l'ufficio acquisti verifica disponibilità fondi per richieste di acquisto se leggiamo una descrizione in un testo in un processo dal contesto capiamo di cosa si parla se io leggessi solamente verifica disponibilità di cosa è relativo a che cosa no quindi ho voluto scriverlo un pochino più per esteso per renderlo comprensibile anche fuori dal contesto sequenziale dell'operazione proviamo anche a chiederci lo faremo lo dovremo fare quando faremo la narrativa dei casi di studio ma proviamo a chiederci qual è l'effetto di questi casi di studio l'input e l'output ma soprattutto l'output che è inserisce una richiesta acquisto vuol dire che alla fine nel database c'è una richiesta acquisto in più inserisce un preventivo significa che alla fine c'è un preventivo in più legato a una certa richiesta d'acquisto verifica verifica è una cosa che non cambia i dati cioè il preventivo che c'era continua a esserci ma esce con una risposta di tipo sì o no quindi nel usare i verbi facciamo attenzione modifica controlla approva verifica sono cose che hanno significati diversi cerchiamo di fare in modo di suggerire o di prima di tutto convincerci noi di che cosa sta succedendo e quindi puoi usare in modo giusto sarebbe sbagliato dire inserisci la disponibilità di fondi perché non è che la disponibilità di fondi la metto adesso ci sono verifico se c'è quindi è un se è una risposta sì o no infatti vedo il processo vedo che subito dopo c'è un sì o no quindi tutto quadra per fortuna finora dopodiché andiamo avanti il proponente ottiene almeno tre preventivi l'abbiamo già messo in realtà l'abbiamo un pochino spezzato in due questo processo il fatto che lui se le vada a procacciare i preventivi non lo vedo e poi in realtà c'è una passaggio in più in cui lui deve inserire caricare nel sistema e questo l'ho già scritto che è qua inserimento di una o più perché in questo caso uno lo può fare più volte il responsabile dei fondi approva la spesa allora questo è un lavoro per il responsabile dei fondi approva spesa per RDA poi l'ufficio acquisti seleziona l'offerta più conveniente quindi sempre l'ufficio acquisti seleziona offerta migliore vedete per esempio che questo è una scelta di processo molto forte nel senso che alla fine tra N preventivi chi decide non è il proponente che dice ma io prefisco questo rispetto all'altro perché ma è l'ufficio acquisti che tipicamente guarderà solamente il prezzo è così questo processo e purtroppo molti processi reali l'ufficio acquisto a questo punto invia l'ordine al fornitore e quindi nei casi d'uso sempre l'ufficio acquisti invia ordine quindi ci immaginiamo questo signore di afficio acquisti che ha di fronte a sé quando si collega un elenco di richieste di acquisto ciascuno delle quali è in fasi diverse di lavorazione per alcune delle quali sarà necessario verificare la disponibilità dei fondi altre magari ha già verificato la disponibilità dei fondi e in attesa del fatto che il responsabile dei fondi li approvi quindi lo vede ma non ci può fare nulla perché è in attesa oppure ha già più offerte quindi deve semplicemente che si tratta quella migliore e di seguito inviare l'ordine al fornitore questo invia ordine al fornitore mi viene quasi da pensare che sia una immediata conseguenza del sezionario di offerta migliore no? nel senso che inviare l'ordine al fornitore è quasi un'estensione potrebbe essere una cosa che attivo indipendentemente beh adesso invia l'ordine ma se no come naturale passaggio ho scelto l'offerta e invio l'ordine quindi quello che potrei fare è anche indicarlo non come caso duro del tutto indipendente ma anche semplicemente come estensione dell'offerta migliore vuol dire vuol dire che quando hai terminato di selezione l'offerta migliore passi a inviare l'ordine al fornitore e stende sequenzialmente temporalmente l'attività che svolge nel caso di studio nel caso nel lucro duro sono comunque due casi duro separati se lo pensiamo a livello user goal qual è lo scopo dell'uno e dell'altro sono diversi l'effetto finale è diverso uno aver ottenuto un'offerta tra n e l'altro aver prodotto e inviato un ordine ma sono collegati dal punto di vista dell'esecuzione temporale sono separati sono attivabili separatamente ma c'è una relazione tra questi due che è anche abbastanza forte chi farà l'interfaccia deciderà se attivarli da due bottoni due botti di menu separate oppure fare in modo che l'uno cada nell'altro in un certo senso finito l'uno ti trovi già direttamente dentro l'altro e salti dei passaggi perché è la naturale estensione dell'altro ok e qui la parte semplice del processo grossomodo si gestisce con questi casi d'uso la parte invece più complessa che è quella relativa direi che abbiamo dimesso tutto la parte più complessa che è quella relativa all'acquisto tramite gara richiede delle modalità di interazione in più allora innanzitutto questo è il fatto che il proponente inserisce il capitolato quindi nei casi duri non solamente inserimento in un acquisto d'acquisto ma un inserimento in un capitolato per richiesta di acquisto questo è ciò che deve fare il proponente poi l'ufficio acquisti predispone il bando di gara allora qua la vediamo predispone il bando di gara verifica il bando sono attività gestite dal sistema sì possiamo pensare di sì il test ci diceva pensa che tutto sia gestito dal sistema perché a volte invece significa prendere in word un template di bando e mettere i nomi dentro e lo passo e lo mando via mail perché tu lo controlli quindi avviene al di fuori il sistema informativo poi invece vogliamo gestire tutto il sistema informativo e quindi dobbiamo avere una funzionalità attraverso cui l'ufficio acquisti predispone il bando no vuol dire che il mio sistema informativo probabilmente ha già in pancia un template di bando e va a prendere i dati dalle richieste d'acquisto e li popola direttamente quindi l'ufficio acquisti che era qua predispone il bando c'è bisogno di un po' di spazio in più che era qua predispone il bando cioè inserisce nel sistema di fatto un nuovo bando a partire da una richiesta d'acquisto bando il quale deve essere verificato dal proponente quindi il proponente a questo punto dopo che ha inserito il suo capitolato dovrà anche in un passaggio successivo vediamo se riesco a farmi spazio dovrà anche in un passaggio successivo verifica il bando di nuovo verifica è un'azione in cui io vedo una cosa fatta da un altro e dico sì o no magari con commento sono qua se ci sono le modifiche che si fanno eccetera eccetera se no si va avanti il direttore del dipartimento approva il bando sa perché i direttori sono sempre quelli che hanno incasso tutto più facile il direttore del dipartimento vediamo qua approva il bando quindi in realtà questa offerta è stata approvata prima dai responsabili dei fondi e poi dopo tutta questa trafila di capitolato per la disposizione del bando eccetera passa al direttore del dipartimento il quale approva il bando poi abbiamo queste parti qua che abbiamo detto che non corrispondono a casi d'uso umani perché sono i sistemi informativi che si parlano ciò che invece coinvolge gli umani è questa freccia di modifica cioè cosa succede nel caso in cui la Corte dei Conti dice no vabbè finisce tutto dica sì andiamo avanti lo vediamo dopo dice invece modifica la modifica significa che devo tornare qua all'ufficio acquisti che non più predispone un nuovo bando di gara ma modifica un bando di gara resistente quindi come minimo l'ufficio acquisti predispone il bando ma anche modifica un bando sempre qui quindi sono arrivato qua sotto sto seguendo il processo e chiedendomi dov'è che un nostro impiegato deve fare qualche cosa collegandosi al sistema informativo e dove sì deve esserci un caso duro e quindi di fatto una parte poi di interfaccia che lo permetta l'ufficio acquisti recupera l'offerta e lo portale MEPA allora questo qua in realtà è un caso duro in cui vengono segnalate le offerte prevenute recupera l'offerta del portale qui non siamo stati espliciti potrebbe essere che io le devo leggere a mano ricopiare a mano oppure recuperare significa semplicemente vengono importate automaticamente quindi questo processo qua rischia di essere anche questo automatico cioè l'ufficio acquisti non deve fare nulla se non il fatto gli arriverà una notifica che gli dice guarda se hai chiuso il bando queste sono le offerte le trovi già nel sistema le offerte rischia di essere lo stesso caso d'uso che ho qui cioè io mi trovo a un certo punto delle offerte da selezionare queste offerte mi sono arrivate dal MEPA che mi ha detto ok vai avanti quindi purtroppo per poter capire se qui c'è un'azione specifica da fare o no dovrei entrare più nel dettaglio su come si integra il mio sistema con quello del MEPA in questa fase potrei sia metterlo che non metterlo al caro d'uso essenzialmente dipende da qua la chiusura del bando cosa mi arriva mi arriva semplicemente l'informazione il bando 27 si è chiuso e quindi il sistema informativo del MEPA è molto pigro e non mi manda anche le offerte ma mi manda solo un'informazione sintetica e quindi poi c'è un omino che va a ritirare giù le informazioni oppure in questo segnale in ingresso arrivano anche l'informazione sulle offerte cosa che ritengo più probabile ma bisogna andare a vedere come funziona quell'altro sistema non lo so io l'avrei progettato così ma non è detto che loro l'abbiano fatto che funzioni veramente così quindi questo se vogliamo è un punto sospeso che dovremmo diciamo dirimere andando a vedere le specifiche cosa permette il MEPA come integrazione sistemistica per il resto direi che siamo a posto nel senso che tra l'altro la domanda ci diceva fammi il diagramma di casi d'uso comprendendo anche tutte le attività di firma in forma elettronica quindi quali sono le attività che richiedono la firma elettronica se vogliamo andiamo a vedere questi casi d'uso essenzialmente queste due di approvazione che richiedono la firma e probabilmente anche quello di inserimento della richiesta se il richiedente firma la richiesta stessa le altre sono attività diciamo di tipo amministrativo cioè disponibilità dei fondi è un processo di controllo non è la responsabilità dell'impiegato dire se i fondi o ci sono o non ci sono semplicemente un check che va fatto quindi non richiede una firma quindi la firma elettronica io la metterei sicuramente su queste due fasi di approvazione perché poi di fatto sono un po' i vincolanti per il bilancio e probabilmente la farai mettere anche al richiedente tutte le altre attività probabilmente non richiede il fatto ai due livelli di autorizzazione il primo livello è che tu comunque stai usando il sistema informativo quindi sei entrato dentro avevi la password avevi le credenziali avevi l'accesso e ci sei entrato con un certo ruolo e il tuo ruolo che ti è stato riconosciuto all'atto del login ti permette di fare certe cose e quindi questo di per sé ti autorizza a fare ad attivare certi processi all'interno del tuo sistema informativo di per sé non servirebbe nulla la firma elettronica all'interno dell'azienda perché comunque se è collegato al sistema ti fai cose per cui è previsto che tu le faccia è come chiediti una seconda volta la password ma te l'ho appena dato viceversa invece se alcune azioni hanno una rilevanza anche esterna magari legale magari contrattuale allora a quel punto tu hai un bel da dire al tuo fornitore ah ma nel mio sistema informativo risulta che il dirigente non abbia fatto il login oppure l'abbia fatto allora del tuo login non interessa nulla la firma elettronica invece lascia una traccia gestita da gestori esterni di sicurezza con la dieta non ripudiabile per cui se c'è questa firma è di evidenza pubblica e può essere verificata quindi in quel caso questi due sicuramente sarebbero importanti però l'esercizio ovviamente non andava a approfondire le problematiche di firma elettronica e non vedo al momento ehi cosa ho fatto salva ok non vedo al momento altri casi d'uso mancanti vediamo solo a vedere se il caso d'uso di livello di gergola è relativo alla ricezione da parte dell'ufficio acquisti della richiesta la ricezione da parte dell'ufficio acquisti della richiesta in realtà questo non l'abbiamo dimenticato non l'abbiamo messo o a cosa corrisponde di questi cioè no ciò di cui dovremmo fare la descrizione qui è descritto come ricezione da parte dell'ufficio acquisti della richiesta allora io mi sto chiedendo ce lo siamo dimenticati oppure è già uno di questi con un nome diverso secondo me è questo ciò che fa l'ufficio acquisti quando riceve la richiesta se l'abbiamo qui qui c'è la richiesta e qui c'è l'ufficio acquisti che ti descrive che cosa fa quando riceve la richiesta poi fa tante altre cose anche dopo ma sono casi due separati nel senso che nel frattempo ha finito quella poi passa la palla ad altri il carduso descrive una sequenza contigua di operazione che si conclude dicendo io questo pezzo l'ho fatto se adesso come conseguenza di ciò che l'ho fatto io qualcun altro deve fare qualche cosa l'altro non fa più parte di questo carduso quindi non è da qua fino in fondo fino all'ordine di acquisto è da qua fino a quando la palla non passa a qualcun altro quindi di fatto è questa parte qui che noi abbiamo descritto in questo modo quindi se vogliamo essere più espliciti rispetto alla finenza col testo potremmo scrivere riceve la una rda e verifica la disponibilità dei fondi così usiamo la parola riceve che richiama ciò che mi chiede nel testo è chiaro che nel testo di esercizio non ci può essere non posso leggervi la mente per sapere come chiamerete i casi d'uso siamo andati avanti per punti senza andare a leggere il punto successivo se no se vogliamo leggete il punto successivo dicendo beh è un caso d'uso che fa questo di sicuro deve esserci poi pensiamo agli altri in questo caso ovviamente l'avevamo messo l'avevamo chiamato in un modo diverso arrivi per parlare una pausa a questo punto credo che ne abbiamo bisogno io sicuro magari dieci minuti non molto di più per non andare troppo in là e poi magari proviamo a fare almeno per sommi capi la descrizione del caso 2 ok grazie a tutti